Cambiamenti in corso a partire dal prossimo 1 settembre da parte del Consiglio Episcopale per la Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola sulla nomina di alcuni parroci e sulla presenza dei sacerdoti su tutto il territorio diocesano. Tra i cambiamenti viene nominato parroco di San Cesario a Fano Don Ivan Bellomarì. A Fossombrone Don Steven Carboni viene nominato parroco di Santa Maria Ausiliatrice e San Martino e sarà anche moderatore della comunità pastorale. Don Gabriele Micci invece viene nominato vicario parrocchiale di Serra Sant'Abbondio e Frontone. Don Diego Fascinetti sarà amministratore di San Severo a Smirra e di San Bartolomeo a Drogo. Viene nominato parroco della concattedrale di Cagli, della parrocchia di Secchiano e di Acquaviva e sarà moderatore della comunità pastorale cagliese. Don Filippo Fratelloni viene nominato parroco delle parrocchie di San Francesco e Sant'Andrea in concattedrale a Pergola. Amministratore di Tarugo viene nominato anche parroco di Frontone e di Serra Sant'Abbondio e anche lui sarà moderatore della comunità. Don Mirco Ambrosini parroco di Santa Maria Orciano viene nominato parroco di San Maurizio a San Bartolo e della parrocchia della Santissima Risurrezione di Barchi e sarà moderatore delle parrocchie della comunità pastorale di Terre Roveresche. Don Michele Giardini viene nominato parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paterniano a Mondavio e sarà moderatore della comunità pastorale delle parrocchie di Sant'Andrea di Suasa e San Michele al Fiume. Don Luciano Gattei rimane parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta di Sant'Andrea di Suasa e viene nominato anche parroco della parrocchia Regina della Pace e di San Michele al Fiume. A Sant'Ippolito Don Giuseppinu viene nominato parroco e viene anche incaricato come collaboratore pastorale di Fratterosa e Torre San Marco. Don Pasquale Caponio sarà collaboratore pastorale della comunità di Mondavio mentre Don Fidel viene nominato collaboratore parrocchiale a Finile di Fano. Dal 1 settembre infine Don Piergiorgio Giorgini, Don Giuseppe Pierini, Don Giancarlo Carboni e Don Nazareno Bartolucci termineranno il loro mandato per raggiunti limiti di età ma resteranno collaboratori pastorali delle proprie comunità.